Oggi mercoledì, 16 ottobre 2019, siamo sui lipidi pendii del Monte Zugna di Lovereto, esattamente sulle lastre per vedere le orme di Dinosan, assieme alla mia cagnolina Superstar Meridim, ed ecco qua delle orme sulle lipidi e lastre che scendono verso valle di pendici del Monte Zugna, la mia Meridim sta salendo.